Tira un'aria frizzante questa mattina tra politici e commentatori, quasi tutti felici per aver demolito l'esistente e tutti subito attaccati alle braghe del commissario. Con quella felicità della classe che ha appena scoperto che oggi ci sarà il supplente, quindi sicuramente non interroga, non controlla i compiti fatti a casa e forse se va bene non si fa nemmeno lezione. La giornata di ieri, del resto, è stata una convulsa regressione verso il gnegneismo politico, una delle più convulse che si possa ricordare. Tutti in fila a dare il peggio di sé dentro una trattativa politica che è stato uno spettacolo indecenti. I 5 Stelle con Vito Crimi, il protempore più duraturo nella storia delle reggenze politiche, il Sato a difendere perfino l'indifendibile, il Partito Democratico, come troppo spesso accade sempre trascinato dalla corrente. Renzi e la sua ciurma a fare finta di trattare come a una recita di fine anno, mentre alzava la posta in gioco ogni minuto che passava e divertendosi come un matto. Uno spettacolo indecoroso mentre là fuori morivano le solite 500 persone, a cui ormai ci siamo abituati come se fossero brina di primo mattino. E così quelli che per settimane ci hanno sfrantumato dicendo che la politica si fa con le idee e non si fa con i nomi, ieri sera sono andati a dormire tutti esultanti perché sono riusciti a demolire gli avversari e si sentono rassicurati dall'arrivo del nuovo logo, Mario Draghi. Come se bastasse un'etichetta per nobilitare un Parlamento farcito di capetti viziati, capricciosi che si sono litigati la merenda fino all'ultimo minuto dell'intervallo e che ora esultano per un probabile governo verde l'Oden. La sola idea che basti il profumo di Draghi perché l'Italia torni a volare è il sintomo più lampante di una decadenza della classe politica che si è fatta implodere, di una classe culturale eternamente appesa al prossimo salvatore e di un giornalismo rassicurato dall'essere fedele al prossimo padrone. Alla fine, in mezzo ai bambini, è arrivato il presidente Mattarella, che ormai appare l'unico adulto là dentro e che prova tutti i giorni a metterci una pezza a questa immatura concludenza. Ma è lo stesso Mattarella che ieri nel suo discorso ha parlato di un governo che non debba identificarsi con alcuna formula politica. Ha detto proprio così. E vedere esultare la politica per un governo impolitico rende perfettamente l'idea della crisi di rappresentanza democratica che sforna soluzioni costituzionalmente legittime ma che sono tutt'altro che una vittoria. Mario Draghi inevitabilmente perseguirà, come nell'anima di ogni governo, interessi e valori che probabilmente riusciranno a cementare una certa idea di centro tendente a destra che tanto piace a Renzi, a Berlusconi, a Calende e a tutta quella compagnia di giro, ma forse in mezzo a tutta questa esaltazione varrebbe la pena ricordare che le scorie del governo Monti portarono all'esplosione del populismo e di certa destra salviniana. Esulteremo un po' meno. Ecco tutto. Se invece il gioco è quello di convincerci che peggio di come eravamo messi non potrebbe andare e quindi bisogna esultare perché un governo Draghi dicono non può fare peggio di questo governo, allora si rientra nel campo del fideismo da tifoserie e nell'infantile speranza che riesce ad accendersi solo quando vede le macerie e si torna al punto di partenza. Un impolitico gioco di specchietti per le allodole. Manca la politica. Appunto. Buon mercoledì.